E' un cucciolo di lupo, a metà settembre era stato trovato svenuto e ferito nel canavese. Dopo le cure al centro animali non convenzionale di Grugliasco è tornato in libertà, probabilmente era stato investito da un veicolo o ci aveva sbattuto contro. In questi casi l'animale selvatico viene curato al cance evitando il più possibile i contatti con l'unico essere umano che se ne può prendere cura. Ora è nuovamente nel suo ambiente, l'area in cui è stato rilasciato è oggetto di monitoraggio per verificare che abbia raggiunto i genitori e sia stato nuovamente accettato nel suo branco.